Alla fine la sua è stata l'unica candidatura presentata all'Assemblea regionale del PD, sottoscritta in blocco da tutti i segretari delle 13 federazioni toscane, compresi quelli renziani di Empoli e Lucca. Ivan Ferrucci, 45 anni, di Cascina, consigliere regionale e coordinatore della segreteria regionale del partito, prende ufficialmente il posto di Andrea Manciulli alla guida dei democratici in Toscana. Il traghettatore, in vista del congresso che sarà convocato in autunno, scadenza naturale del mandato di Manciulli. Questi i suoi obiettivi. Uno ovviamente è quello di preparare il PD al congresso nazionale a tutti i livelli quando si svolge. Il secondo riguarda l'agenda politica del governo regionale e del quadro politico del paese che attraversa una recessione ancora molto acuta. Secondo Ferrucci, il PD toscano può giocare un ruolo fondamentale nella discussione nazionale sul polo siderurgico, film meccanica, piccole e medie imprese, politiche per i giovani. Sia dal polo siderurgico, sia dalla questione del gruppo film meccanica, sia dalla questione di piccole e medie imprese, le politiche verso i giovani per l'occupazione come già del resto della regione toscana ha avviato negli ultimi due anni e mezzo. E poi ovviamente ci sono questioni che riguardano più noi. C'è la legge regionale sull'urbanistica, il piano regionale sanitario che va fatto quanto prima. E soprattutto, dice Ferrucci, un nuovo patto per lo sviluppo con le categorie economiche e sindacati. Molta commozione invece per Andrea Manciulli, segretario regionale del DS dal 2006, poi del PD dal 2009 e ora deputato e membro della segreteria nazionale. Sono contento di passare il testimone, sono contento di passarlo dopo le vittorie che ci sono state e sono soprattutto davvero sentitamente riconoscente verso il nostro popolo, la nostra gente. La Toscana è davvero una terra meravigliosa, ma dato tanto io non so come ringraziarli.